Come si mette un ferretto? Prendiamo l'ancia appoggiamo il ferretto a circa 5 mm dalla legatura e lo teniamo con la mano sinistra l'indice, il pollice e il medio in questa maniera. Dopo di che si prende la parte sinistra del filo e si passa verso destra, la parte destra verso sinistra. Fatto questo il filo si accompagna nell'altro lato dell'ancia. Girando l'ancia vedremo che dei fili sono convergenti, il destro verso sinistra e sinistra verso destra. Quindi in questa maniera si avvolge e con la pinza si avvolgerà sempre verso l'esterno come se si dovessero abitare una vite normalmente, cioè da sinistra verso destra in questa maniera. Fatto questo potete osservare che il ferretto non ha sovrapposizione. dopodichè tagliamo. E questo è il ferretto non ha sovrapposizione. Ciao!